verso la fine della stagione primaverile l'inizio della stagione estiva il clima magari asciutto le grandi giornate di sole ricreano delle condizioni nel sottobosco che sono le ideali ed ottimali a volte per la fruttificazione di alcune specie di funghi inclusa all'interno del genere russula che sono volgarmente note in alcune regioni della penisola col nome di colombine piuttosto che ginevrine andiamo a vedere come sono fatte e come è fatta in particolare questa specie che troviamo qui di fronte ai nostri occhi che si può presentare intanto guardate bene con delle colorazioni della cuticola di colore giallo dorato con delle sfumature dei riflessi rossastri che con l'età possono assumere delle tonalità anche più completamente marcatamente aranciato rossastre quindi questo è un primo dettaglio un primo carattere da tenere presente questa russula è un fungo intanto tipico tipico dei periodi un pochino più caldi e si chiama russula aurea o russula aurata e deve il suo nome scientifico al fatto che presenta la superficie delle lamelle che sono molto fitte come vedete a volte poi questa è una forcatura occasionalmente sono forcate sono adnate al gambo di colore biancastro sulla pagina interna con dei riflessi giallini che poi diventano caratteristicamente il filo quindi il tagliente quindi la parte terminale diciamo della nostra lamellina quella che vediamo qui colorata di colore giallastro quindi un giallo un giallo intenso un giallo che ricorda i colori dell'ovolo buono o della manita cesarea russula aurea o russula aurata vediamo oltre ai suoi cromatismi gli altri dettagli per riconoscerla all'interno del genere russula qua raccogliamo questa piccolina e intanto osserviamo nuovamente la presenza di questo colore giallo limone giallo dorato sul tagliente delle lamelle questa particolare cromatismi della cuticola che la vogliono appunto la colombina dorata la colombina del sole ricordano un po i colori dell'ovolo buono o della manita cesarea quindi ma anche se vediamo che sono funghi privi di residui del velo parziale come anelli alla base del gambo non presentano residui di veli generali o delle volve e sul cappello non ci sono delle placche o delle squame residui del velo generale quando si dissocia seconda cosa importante ed è un carattere che è presente nei funghi del genere russula e del genere lactarius quindi due generi che hanno questa caratteristica è la consistenza della carne allora guardate si spezza come se fosse adesso io l'ho spezzata proprio di netto si spezza come se fosse un gessetto della lavagna questa si definisce consistenza gessosa della carne perché la carne ha questa particolare frattura in virtù delle cellule che hanno una forma sferocitica che compongono la sua struttura e quindi tipicamente adesso lo rivediamo un po un po crudo da vedere come accade ma si spezza proprio come un gessetto una sorta di gessetto della lavagna quindi una carne che ha questa consistenza sia nei funghi del genere lactarius sia nei funghi del genere russula che però non emette del lattice dalla carne quindi se noi la tagliamo oppure sfreghiamo le lamelle o comunque la osserviamo in alcuni dei suoi caratteri non fuorisciranno dei liquidi lattiginosi a volte biancastri a volte giallastri violacei oppure di colore aranciato quindi non c'è lattice carne dalla consistenza gessosa ci troviamo di fronte a un fungo del genere russula ce ne sono tantissime specie all'interno del nostro territorio della nostra penisola e tra le più facili che possiamo riconoscere all'inizio della stagione estiva o la fine della primavera in boschi di latifoglia ma anche di conifera in ambiente montano la colombina del sole o russula aurea o russula aurata dimensioni che possono anche essere superiori a quelle che vedete in questa immagine arrivare fino a 10 12 centimetri di diametro del cappello questa cuticola che come vedete al margine a volta si presenta leggermente scanalata proviamo a rimuoverla vedete la cuticola si può spelare per un terzo circa del diametro del cappello sotto la carne generalmente presenta qualche debole riflesso rosato giallastro la giriamo osserviamo la superficie delle lamelle molto fitte adnate al gambo di colore col filo tagliente giallastro ma di un colore comunque che ricorda quello dell'ovolo buono manita cesare a colore giallo crema giallo zabaione un po più chiaro ecco molto fitte come vedete un'altra cosa che si nota è la consistenza di questo fungo che è molto fragile pensate è bastato appena raccoglierlo qua dal suo sottobosco che già si è un pochino rovinato e frammentato altra cosa quando non siamo sicuri della russula e dei funghi del genere russula che abbiamo di fronte oltre alla prova della carne cassante priva di lattice nelle carni possiamo prenderne un piccolo pezzettino in questo caso possiamo prendere un piccolo pezzettino della carne e portarla a masticazione se alla masticazione sentiremo un saccomore acre piccante ci troveremo di fronte ad una russula di quelle considerate non commestibili o tossiche mentre invece se la carne avrà un sentore dolce ci troveremo di fronte a un fungo del genere russula commestibile poi sulla bontà alcune specie sono più buone alcune sono meno buone questa un ottimo sapore un odore gradevole leggermente fruttato un sapore solitamente nei funghi del genere russula dei sentori che ricordano un pochino la nocciola la carne molto leggera il peso specifico di questo fungo è leggerissimo ed è anche come abbiamo detto molto fragile il gambo solitamente non è duro e compatto ma è abbastanza leggero anche se è completamente formato quindi non presenta delle cavità carne dolce fungo ottimo commestibile la colombina del sole russula aurea russula aurata buona da consumare quando la troviamo fresca portiamola eventualmente nel cestino riparata con delle foglie di castagno perché se noi la raccogliamo e la mettiamo nel cesto come vedete fungo fragile tende a rompersi e a corrompersi rapidamente ideale per un consumo trifolata senza troppi aromi dominanti perché il gusto comunque molto delicato quando gli esemplari sono giovanissimi e freschissimi ben puliti e ben lavati è una delle russule che può anche essere consumata ovviamente in moderatissimi quantitativi affettata in insalata in carpaccio ora raccogliamo questi due esemplari della colombina del sole che ci hanno fatto didattica e lasciamo il piccolo esemplare a proseguire la sua crescita nel sottobosco termofilo in questo caso di lattifoglie cerro castagno ma abbiamo detto è un fungo che si trova anche in areale di media e alta montagna in presenza di boschi di abete di abete rosso di abete bianco e anche occasionalmente nelle pinete russula aurea colorazioni auree la colombina del sole lamelle di colore giallo intenso che ricordano quelle dell'ovolo buono si può trovare una sua forma che si chiama forma axanta che è priva di pigmentazioni giallastre oppure si possono trovare addirittura quindi una russula ancora più scura di colorazioni del cappello quasi quasi aranciato rossastra ma sempre con queste lamelle di colore giallastro e infine ci sono altre forme ecologiche dal colore più giallo intenso della cuticola del cappello sempre carne dolce carne gessosa priva di lattice priva di veli parziali generali